Sindaco, in questi giorni si parla molto del campus scolastico, sono trapelate dichiarazioni per cui le cifre non sono più di quelle di cui si era parlato, quindi c'è preoccupazione in città. Anche lei ha espresso più volte dichiarazioni dove ovviamente è pronto a una levata di scudi, come si suol dire. Sì Luca, non ho solo espresso dichiarazioni e sono pronto a una levata di scudi, io mi sono immolato su questa questione anche in tempi non sospetti quando i ragazzi non avevano più le scuole e quindi ho suggerito andandolo a cercare alla provincia la vecchia sede della Quadrilatero che non era sicuramente il massimo che potevano avere i ragazzi e lo abbiamo detto anche in questi giorni perché in alcune aule non ci sono neanche le finestre, non c'è la possibilità di fare laboratorio. Io ho chiesto a loro e alle famiglie di fare sacrifici perché c'era questa nuova era che doveva arrivare e che stavamo concordando insieme che era appunto il campus scolastico. I ragazzi oggi hanno la possibilità, finalmente purtroppo a causa di una disgrazia, subendone tutte le conseguenze come stavo dicendo prima, perdendo anche le iscrizioni quindi rischiando di perdere gli istituti scolastici a Tolentino, quindi una città la più grande del sisma. Dopo tutto questo c'è qualcuno che se la cava dicendo no no non ci vogliono 22 milioni di euro per fare una scuola, un istituto prestante, cioè una struttura prestante che accolga tutti gli istituti, quindi tutte le varie forme di insegnamento che sono liceo classico, geoscientifico, coreutico, IPIA e ragioneria. Oite qual si voglia dire. Ecco di fronte a questo, di fronte a una tragedia, di fronte a una disgrazia si specula su 5 milioni di euro di differenza, abbiamo capito tutti bene, quindi si rischierebbe di fare un'opera diciamo così da 6 più che non è proiettata nel futuro, non sarebbe sufficiente quindi ci dovremmo rimettere le mani e non un'opera che possa prendere il 10 e l'ode in un momento come questo perché ci sono 5 milioni di euro di differenza che avevamo già pattuito perché avevamo già mostrato quale doveva essere e avevamo concordato con la commissaria De Micheli alla quale non do colpe perché lei non è né ingegnere né architetto. Era con sé il responsabile nazionale delle costruzioni scolastiche, quindi chi più di lui poteva verificare? Insieme al rupe della scuola del campus di Tolentino che è l'architetto Pierucci, insieme al rupe dell'alberghiero Icingoli che è l'ingegnere Alessandro Mecozzi ambe due della provincia, al presidente della provincia Antonio Pettinari, al responsabile dell'ufficio sisma regionale che era presente non era l'ingegnere Spuri ma comunque sia valevole e quanto mai preparata persona e abbiamo concordato in quella data rivedendo tutti i parametri con i rupe che portavano ovviamente le loro motivazioni che il Tolentino e il campus costava 22 milioni di euro 0,70 dico anche i spicci e il campus e la scuola alberghiera di Icingoli passava da 17 milioni di euro a 24 milioni di euro sempre con gli standard d'avanguardia eccetera eccetera. E noi che cosa abbiamo scoperto poi dagli uffici sisma regionali? che non solo i tecnici incaricati hanno ridotto questo progetto all'essenziale e quindi non a quello che dovrebbe essere ottimale ma che addirittura l'assessore Sciapichetti che è tra l'altro espresso dalla provincia di Macerata sostiene e se la cava dicendo questa decurtazione siamo comunque nei parametri di legge anzi ci abbiamo messo anche 500 mila euro in più se tutto questo non va a posto noi mercoledì prossimo abbiamo già prenotato i pullman che pagheremo noi io sindaco, gli altri amministratori porteremo tutti i ragazzi, i genitori, gli opinionisti, i giornalisti, i pensionati che vorranno venire con noi in regione ad occupare la regione per fare giustizia su queste cose perché la disgrazia nella disgrazia no, non possiamo essere amministrati da gente che non mantiene nemmeno quello che firma